Vendita Lucoil sulla paventata cessione degli stabilimenti, il sindacato già da tempo ha aperto una discussione. Adesso l'UGL ha messo sul tavolo le proposte, ma anche la volontà di fare chiarezza sul futuro lavorativo e aziendale. Abbiamo avuto l'incontro con la direzione del Lucoil, il dottore Geraci, responsabile industriale sempre della Lucoil, perché i dati che erano emersi dalle notizie della stampa non erano confortanti anche a seguito all'incontro che c'è stato al Ministero per lo Sviluppo Economico, ma hanno confermato intanto che c'è una ripresa per quanto riguarda il fatturato e quindi usciranno positivamente nel corso del 2016. Siamo stati soddisfatti anche per il piano di investimenti che sono in programma per il 2018. Naturalmente, come ha detto il dottore Geraci, restano tutte le possibilità, eventualmente un socio, un partner, ma il cartello Ventes alla Lucoil non è stato messo. Quindi, al di là dei allarmismi, ma c'è di fare un'altra riflessione che è stata fatta pesare naturalmente, è quella della burocrazia, è quella che incontrano tutti i giorni, al di là degli interventi della magistratura, ma a volte le leggi non sono conforme, perché se io vado a presentare un piano per inquinamento o ristrutturazione aziendale o bonifiche e quant'altro, subito dopo vengono contraffatte da altre leggi e quindi le imprese non sono certe degli investimenti. Hai parlato anche di alcune cifre? Sì, abbiamo parlato anche di cifre dei 30 milioni di euro che non erano i 12 che erano stati detti, ma bensì sono 30 milioni per quanto riguarda il modernamento che è dell'ISAB Sud. Quindi si passerà anche l'ISAB Nord. Ci sono grossi investimenti che verranno non tutti fatti in un'unica ripresa, ma saranno contingentati per evitare i rischi della sicurezza, perché quando è stato fatto l'ultimo investimento c'erano 4.000 unità con il rischio della salute e incidenti. Quindi siamo stati molto soddisfatti. C'era il segretario dei chimici all'ONCE, cambisti come l'IRSU che si confronteranno nuovamente in impresa. Ma a questo voglio ringraziare della sincerità e dell'onestà, anche che non hanno smentito eventuale messa in vendita, ma che non è una vendita ma sarà una partnership importante per lo sviluppo di questa area.